La visita dall'andrologo si svolge come un normale controllo medico. Inizia con un colloquio per la raccolta dei dati generali della storia clinica del paziente. Successivamente il medico procederà ad una visita generale dei genitali esterni. Se necessario prescriverà ulteriori indagini come per esempio analisi del sangue, esame del liquido seminale o la valutazione di indagini ecografiche. Grazie a tutti.